Oggi visiteremo il polmone verde a pochi passi da Torino dove la selvaggia natura e la storia si fondono in un abbraccio simbiotico. Questo è il Parco Naturale Regionale della Mandria, un prezioso scrigno di biodiversità protetta che si estende per oltre 6.500 ettari di territorio in direzione delle valli di Lanzo. In questo paesaggio straordinario, creature selvatiche come i cervi vagano liberamente, mentre habitat preziosi forniscono riparo e sostentamento ad una vasta gamma di specie protette a livello comunitario. Le montagne ancora leggermente imbiancate in questa tarda primavera, sembrano mute testimoni di un risveglio di una natura pronta ad esplodere con i suoi colori. I querceti presenti ancora in vaste aree del parco resistono alla pressione dell'urbanizzazione, come un baluardo del passato che ci ricorda quanto fragile sia l'equilibrio tra la modernità ed il rispetto della natura. Ma il Parco della Mandria non è solo un santuario della natura. All'interno dei suoi confini si trova un ricco patrimonio storico e architettonico, che si integra armoniosamente con l'ambiente circostante. La reggia di caccia della Benaria Reale rappresenta solo il complesso più conosciuto e di ampie dimensioni ma non è certo l'unico. All'interno del parco, infatti, sono presenti tracce consistenti dell'antico ricetto medievale, la Villa dei Laghi e la Chiesetta di San Giuliano. La nostra visita di oggi si concentrerà su quello che viene denominato Castello della Mandria che, posto a pochi passi dalla reggia di Venaria, racconta una storia che a suo tempo fu fonte di scandalo ed imbarazzo alla corte dei Savoia. La storia del castello e del relativo borgo risale al 1600 ed è ascrivibile al più ampio contesto di ristrutturazione delle pertinenze della reggia di Venaria Reale. Riconducibile ai lavori svolti intorno al 1693 nell'area in cui oggi sorge il complesso è la struttura destinata all'allevamento equino denominata Mandria Vecchia. Ancora oggi sono visibili le ampie scuderie e tutte le pertinenze legate al castello. A fine del 1600, il duca di Savoia Vittorio Amedeo II affidò all'architetto di corte Michelangelo Garove l'ampliamento dell'intero palazzo destinando una parte consistente alle attività di svago. Alla morte del Garove i lavori vennero completati dall'architetto Filippo Iuvarra. Ma è con l'avvento di Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia e della Bella Rosini, al secolo rosa vercellana, che il castello divenne il luogo di elezione della loro relazione amorosa. Lo scalpore era dettato dal fatto che l'amante preferita del re, una popolana, assumesse un ruolo sempre più importante all'interno della corte dei Savoia. Occorrerà attendere la morte della regina Maria Adelaide per assistere alle nozze morganatiche tra Vittorio Emanuele II e la Vercellana. Accedendo alle sale si avverte la dimensione più domestica ed intima della vita del sovrano, a dispetto dell'eccessivo formalismo che si respira in molte altre residenze sabaude. Gli ambienti restituiscono uno spaccato di una quotidianità che pur nel privilegiato mondo dell'aristocrazia la riporta a una sorta di normalità, pur non tralasciando per la qualità degli arredi e la finezza degli ambienti uno spiccato senso artistico. La passeggiata lungo i lunghi corridoi ci apre uno sguardo sia sulle stanze da letto che sugli ambienti destinati allo svago e dai momenti meno formali sia degli abitanti del castello che dei visitatori. Gli arredamenti hanno mantenuto il fascino di un tempo anche dopo le vicissitudini che videro il passaggio dell'intero complesso dalla proprietà dei Savoia a quella dei Medici del Vascello. Difficile non soffermarsi sui tantissimi dettagli che valorizzano ogni angolo del castello. L'impressione che si ricava durante la visita è quella di un posto in cui tutto sembra essersi fermato per permetterci di ammirare uno spaccato della vita di personaggi, che normalmente vediamo rappresentati nei libri di storia. E' forse questo che a differenza di altri siti si avverte un maggiore trasporto nel cercare dettagli e particolari. Particolari che non mancano di certo, partendo dai bellissimi vasi, alle statue, alle tappezzerie, ai quadri e dalle foto. Grazie a tutti. Il nostro rapido giro tra le sale e i corridoi del castello, evidenzia il gusto tipico del periodo risorgimentale e dei richiami alle mode di quel momento storico. Riferimento alle mode che comunque risulta meno evidente rispetto alla palazzina di caccia di Stupinigi o al Palazzo Reale di Torino, evidenziando ancora di più la destinazione privata del complesso. Durante la visita dunque si ha l'impressione che il tempo si sia fermato, proponendo una versione meno legata ai fasti della corte sabauda e più alla dimensione privata di quello che fu un vero legame d'amore tra il re d'Italia e Rosa Vercellana. Il castello della Mandria quindi merita una visita alle sue bellissime stanze e se si ha la possibilità anche all'intero comprensorio del parco che la circonda. Grazie a tutti! Dopo un ultimo sguardo ai soffitti a cassettoni finemente lavorati, ci avviamo verso la parte terminale degli appartamenti reali. In quest'ultima parte, trovano spazio non solo alcune salette destinate all'intrattenimento, ma anche alcune pertinenze ad uso del personale di servizio. La nostra visita si conclude percorrendo il lungo corridoio arricchito di trofei di caccia. Nota era infatti la passione di Vittorio Emanuele per l'attività venatoria e in questa parte del castello sono dunque visibili parecchi trofei. Ritornati all'esterno del castello, ci godiamo l'aria terza e fresca ripercorrendo a ritroso il sentiero che ci riporta ad uno degli ingressi della Mandria. Non ci rimane che invitarvi a visitare questo bellissimo castello e vi rimandiamo ai nostri prossimi filmati. L'iscrizione al canale Andalas, un mi piace ed un commento sarebbero graditi. Grazie a tutti.